Una buona giornata, buon venerdì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità e nello specifico andando a Chieti perché c'è stata un'botta e risposta all'interno della maggioranza in regione per i fondi da destinare alla Santissima Annunziata di Chieti. Secondo il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo destinerà solo 49 dei 60 milioni promessi per gli interventi di riqualificazione del nosocomio. Pronta la replica dell'assessore alla salute Nicoletta Verì. I dettagli nel servizio di Andrea Costantini. I fondi da destinare alla riqualificazione del Policlinico di Chieti stanno suscitando tensione all'interno della maggioranza in regione. Ad alimentarle è stato ieri pomeriggio l'ex assessore regionale ed ora capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo con una nota a cui ha allegato una comunicazione del Dipartimento Sanità nella quale si parla di 49 milioni di cofinanziamento da destinare al Santissima Annunziata. Le asle di Chieti e l'Aquila penalizzate nonostante i conti siano in ordine attacca Febbo mentre per Teramo e Pescara la regione ha addirittura autorizzato lo sforamento dei tetti di spesa per il personale di circa 5 milioni di euro permettendo così la proroga di 5 mesi dei contratti degli infermieri e degli ossi in scadenza prevalentemente al 31 luglio. Non solo ma apprendo con stupore e rammarico che per i fondi da destinare al nosocomio di Chieti si sta prefigurando un venir meno agli impegni presi in quanto a fronte delle risorse promesse 60 milioni di euro a oggi la regione e nello specifico il Dipartimento regionale ne metterebbe a disposizione solo 49. Spero, conclude Febbo, facendo riferimento a una riunione avuta all'Università di Chieti dal direttore del Dipartimento da Mario dall'assessore regionale Verì il manager dell'Asl Shell e il rettore Caputi anzi invito i vertici sanitari regionali a tornare sui propri passi e a mantenere gli impegni presi. Stamani la replica dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì il progetto di infrastrutturazione da 49 milioni di euro dice è frutto di un lavoro di condivisione tra Regione, ASL e Università che per la prima volta da anni hanno raggiunto un'intesa piena su tutti gli interventi il piano complessivo prevede un investimento totale di 60 milioni di euro che per la parte non coperta dall'articolo 20 sarà sostenuto con altre linee di finanziamento leggo con stupore ha rimarcato l'assessore le dichiarazioni di chi parla di danno all'ospedale di Chieti per i 49 milioni di fondi destinati dalla Regione al Policlinico Santissima Annunziata sarebbe stato meglio fare come si è fatto negli ultimi 25 anni e ancora di più nella precedente legislatura cioè destinare zero finanziamenti a Chieti? Cronaca il questore di Teramo Lucio Pennella ha emesso 35 provvedimenti di Daspo in particolare sono stati adottati 20 provvedimenti 7 dei quali a carico di tifosi della squadra di calcio del Giulianova e 13 nei confronti dei sostenitori del Lanciano tutti i risultati coinvolti negli scontri che si sono verificati lo scorso 13 marzo a Giulianova all'esterno dello stadio Rubens Fadini in occasione della partita di campionato di eccellenza i destinatari del divieto sono stati deferiti a vario titolo alla competente autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere i Daspo sono stati prescritti per una durata da 3 a 8 anni per 7 di essi è stata richiesta alla competente autorità giudiziaria la misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia provvedimenti di Daspo dunque divieto di assistere alle manifestazioni sportive sono stati emessi anche nei confronti di 15 tifosi della Sant'Egidiese i quali hanno partecipato agli scontri del 7 novembre 2021 nei pressi del casello autostradale di Mosciano Sant'Angelo con alcuni sostenitori della Fermana in occasione dell'incontro di calcio di Serie C tra il Teramo e la squadra marchigiana i destinatari del divieto sono stati deferiti in stato di libertà a vario titolo per il reato di lancio di materiale pericoloso e danneggiamento in concorso cambiamo argomento adesso le sezioni Archeoclub e Italia Nostra di Pescara hanno illustrato le proposte in merito al futuro del centro Nazareth nel cuore della Pescara Vecchia Stefano Recanati un palazzo degli anni 60 figlio dell'epoca della cementificazione ormai da anni abbandonato stiamo parlando del centro Nazareth di Pescara di proprietà della fondazione Paolo VI una struttura completamente obsoleta con evidenti problemi strutturali le sezioni Archeoclub e Italia Nostra di Pescara propongono l'abbattimento per ridare valore al centro storico completamente deformato da questo palazzo io ho visto personalmente una commissione consigliare entrare in questo edificio che era stato abbandonato e svuotato per motivi strutturali ho raccolto e chiesto informazioni al comune di Pescara e mi è stato detto da persone autorevoli che c'era in atto un tentativo del proprietario dell'ente dell'edificio cioè la fondazione Paolo VI quindi partenerariato con il comune di Pescara per ristrutturarlo e ripristinarlo con i fondi del PNR a questo punto mi sono allarmato ancora di più e ho chiesto agli amici di Italia Nostra di un'azione comune noi pensiamo ad un trasferimento degli attuali volumi in un'altra posizione che ci sia il partner comune o ci sia un partner privato concettualmente non cambia semplicemente questi volumi senza che se ne perdano i diritti e quindi anche i ricavi debbano essere realizzati da un'altra parte in questo modo non solo recupereremmo uno spazio o giardino con i ruderi del convento in pieno centro storico ma avremmo magari un'occasione per riqualificare altre parti della città è una proposta collaborativa di cui si può studiare la fattibilità e che in città è stata già praticata in altre situazioni Un protocollo di intesa è stato siglato questa mattina da provincia di Teramo prefettore vigili del fuoco per potenziare sin da questo fine settimana i servizi di sorveglianza e soccorso in mare sulla costa Teramani Oggi sigliamo questa importantissima convenzione stipulata con i vigili del fuoco dove la provincia di Teramo ha voluto fortemente con la figura del Presidente di Buonaventura e nella mia persona come delegato alla protezione civile quale convenzione? Quella del salvamento sulla costa teramana che coinvolgerà i sette comuni e le sette sorelle della costa quindi da Martinsicuro a Silvi questa per una maggiore tutela per i bagnanti per i turisti e per i cittadini della provincia di Teramo perché abbiamo dei pezzi di spiaggia non protetti quindi non salvaguardati dai bagnini e quindi questa è una maggiore sicurezza che un corpo dello Stato quindi appunto questa convenzione la provincia di Teramo ha voluto fare io ringrazio il corpo nazionale dei vigili del fuoco ringrazio la prefettura e ringrazio tutti i comuni coinvolti avremo quest'anno due postazioni una a Roseto degli Abruzzi e uno nel comune di Tortoreto saranno 16 giornate sono intervallate nei weekend quindi una volta sabato stanno a Tortoreto domenica a Roseto e viceversa in queste giornate fino al mese di settembre una vera e propria scena del crimine quella riprodotta a Piazza Salotto a Pescara per sensibilizzare sui temi ambientali vediamo sigarette alluminio e plastica è quello che i cittadini e turisti possono vedere all'interno di una scena del crimine riprodotta in Piazza Salotto a Pescara parliamo della campagna di sensibilizzazione piccoli gesti grandi crimini lanciata da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica la campagna punta non solo a contrastare l'abbandono di mozziconi ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica tappi e scontrini circa il 65% dei mozziconi non viene infatti smaltito correttamente con la conseguenza che oggi sono tre rifiuti più presenti e diffusi anche sulle nostre spiagge in questi giorni e fino al 4 agosto volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili in plastica riciclata ecco questa campagna Marevivo insieme a Bat ha proprio questo obiettivo sensibilizzare le persone perché spesso questo gesto di gettare un mozzicone è associato a un'incuria ma anche a una non consapevolezza di quello che sta avvenendo secondo studi effettuati 4,5 trilioni di mozzicone di sigarette vengono abbandonati nell'ambiente e il Mediterraneo è uno dei rifiuti che maggiormente troviamo noi nel 2020 già come amministrazione abbiamo aderito a un'iniziativa che fu quella di striscia la notizia dove abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione dando informazione ma anche materiale in plastica riciclabile a tutti gli stabilimenti balneari così come alle attività che hanno aderito dei portacicche per non gettare a terra da parte dei fumatori quella cicca restante così come abbiamo inserito 500 portacicche portarifiuti per cicche in tutta la città e ne metteremo a breve altri 500 Nell'ambito di questa campagna viene rilevato cioè viene fatta proprio la conta tramite dei satelliti del Copernicus che hanno un software quindi un'intelligenza artificiale si conteranno i mozziconi di sigaretta abbandonati per terra pre e post campagna di sensibilizzazione per capire se in effetti c'è stato un miglioramento del grado culturale Cambio della guardia in ACHAM SPA la società che gestisce la raccolta e smaltimento rifiuti in diversi comuni dell'Aquilano e della Marsica tra cui Avezzano il nuovo presidente del CDA è Antonio Milo l'uscente Anna Maria Taccone ha tracciato un bilancio dell'attività del suo triennio Anna Maria Taccone siamo qui per questa conferenza stampa di fine mandato ACHAM qual è la situazione dopo tre anni di sua gestione insomma che ACHAM lascia e lascio un treno in corsa che va a 300 all'ora questo è quello che lascio devo dire sono stati tre anni abbastanza impegnativi molto intensi abbiamo fatto molte cose prima di tutto abbiamo fatto un investimento che puntasse alla riconversione dell'impianto e a focalizzarsi sul trattamento della raccolta differenziata in particolare sulla parte dell'organico quindi cercare di abbandonare il prima possibile tutto ciò che deriva dalla raccolta indifferenziata che oggi come oggi rappresenta veramente un fallimento per il sistema e per l'economia le comunità sono cresciute molto la sensibilità è cresciuta molto delle persone siamo diventati tutti molto bravi a differenziare rifiuti c'è una catena che funziona e ACHAM ha più che seguito ha anticipato questa evoluzione quindi ad oggi si propone come un impianto di riferimento per il trattamento dell'organico è fondamentale perché sostanzialmente invece di trattare l'indifferenziato il cui risultato finale finisce in discarica ad oggi non le vuole più nessuno e il sistema è totalmente saturo di discariche trattare invece la raccolta differenziata focalizzarsi sull'organico vuol dire avere creare economia circolare perché significa avere un impatto ambientale assolutamente minimo significa creare una materia prima seconda che è il compost e finita la fase 1 come dicevo avevamo già iniziato a lavorare sulla fase 2 quella della realizzazione di un impianto di biogas che accompagnato da un cogeneratore ci metterà nelle condizioni anche di entrare nel mercato della produzione dell'energia e posso dire con grandissimo orgoglio che il nostro che l'impianto che andiamo a realizzare di biogas ha ricevuto la garanzia sace per la realizzazione e è stato considerato il primo impianto green in Italia finanziato con questa importante garanzia statale all'università di teramo nasce un nuovo corso di formazione in politiche e strategie delle società calcistiche propedeutico all'esame di abilitazione presso il settore tecnico della feder calcio per l'iscrizione nell'elenco speciale nei direttori sportivi iscrizione aperte da oggi al 23 settembre lezione al via dal 10 ottobre c'è bisogno di professionalità nel mondo del calcio e questo corso è un modo per creare professionalità sì l'idea è proprio quella è un'idea che si inserisce in una tradizione pluridecennale dell'università di teramo che mi piace sempre ricordarlo a tutti è stata la prima in Europa ad avere questo marchio e grazie all'intuizione dell'allora rettore Luciano Russi e dell'attuale presidente della federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina da lì molti di noi perché mi sono sempre sempre sentito rigato è casa mia questa questa università abbiamo fatto dei percorsi all'interno del mondo del calcio però è rimasta impressa quella quella idea e quell'idea cercheremo di riproporla con un progetto che intende andare oltre le normali dinamiche cercando di diversificare con degli indirizzi che vanno non solo sul piano tecnico e gestionale ma che parlano la lingua del calcio di oggi che è quella della ricerca dei talenti che è quella della gestione delle dinamiche di sostenibilità e che è quella dell'impiantistica quindi cercheremo attraverso queste cinque fonti di dare modo ai dirigenti che si prepareranno da noi di avere forse una marcia in più forse una visione più ampia speriamo la competenza giusta per dare una mano al nostro calcio è un nuovo inizio ma nello stesso tempo il rinnovamento di un percorso antico della nostra università visto che ci siamo occupati di sport da ormai 25 anni è una giornata che veramente ci dà molta emozione perché dagli anni di Atri vorrei ricordare in questo giorno Luciano Rossi Giuseppe Soggi e Sergio Quirino Valente le tre persone che ci hanno permesso di arrivare poi dove siamo oggi e dopo tanti anni di corsi finalmente un corso che consente l'accesso diretto all'esame da direttore sportivo quindi una possibilità in più per i nostri studenti e credo che sia un modo anche per innovare il mondo del calcio con professionalità formate in accademia che possano coniugare appunto competenze sportive con competenze universitarie la nuova gastronomia di qualità ancora protagonista nell'estate abruzzese l'obiettivo mettere in piedi un progetto che identifica in maniera chiara la nostra regione un Abruzzo che fa sempre più sinergia con i prodotti della terra assolutamente sì siamo oggi alla manifestazione insomma alla presentazione di questo evento bollicina e ventricina proprio per dare forza identità al nostro territorio sulla ventricina è uno di quei prodotti che rappresentano un'eccellenza abruzzese rappresentano in maniera chiara il nostro territorio e abbinati con le bollicine abruzzese questo evento proprio coniuga il territorio come elemento di eccellenza su cui ovviamente cercare di costruire quello che stiamo facendo in questi anni l'immagine di un Abruzzo che ha prodotti di qualità assoluta che ha delle eccellenze e che rappresentano quel valore territoriale ambientale su cui costruirci un turismo un turismo gastronomico e non solo per poter godere di quella che è la bellezza dell'Abruzzo le bollicine insieme alla ventricina sono espressione delle potenzialità di un territorio dove stiamo lavorando appunto insieme non solo Scerni ma anche tutto il territorio insieme agli altri sindaci quelli di Pollutri ma anche altri sindaci dove ricadono i nostri produttori di ventricina per mettere in risalto le bellezze e le potenzialità dei nostri prodotti il turismo è il volano soprattutto di questo prodotto e di questi prodotti attraverso il turismo attraverso la promozione vogliamo dare spazio alle nostre bellezze territoriali il tema è quello della valorizzazione territoriale dei prodotti di un'enogastronomia di qualità che poi ci aiutano a fare anche un discorso di filiera corte di sistema sul territorio parlare di appuntamenti di questo tipo significa valorizzare il nostro territorio ma soprattutto valorizzare quell'agricoltura di qualità su cui poi bisogna appoggiare anche le sfide future che abbracciano una crisi climatica che deve rispondere sempre di più a un'agricoltura sostenibile un percorso itinerante gratuito di arte e musica riscoprendo i luoghi più suggestivi di Abruzzo tutto questo è Diorama Festival che si svolgerà a Pescara il 30 e 31 luglio dopo la prima edizione 2021 nel borgo antico di Monte Silvano Colle l'itinerario degli appuntamenti di Diorama Festival si arricchiscono di nuovi spazi incantevoli in Abruzzo dove raccontare storie fatte di suoni paesaggi colori e sapori storie che sono uniche ed irripetibili il prossimo appuntamento è per i giorni 30 e 31 luglio nel parco del Colle del Telegrafo di Pescara oltre alla mostra Mondo Onirico di Cipo L'Ombre ci saranno la musica di Davide Sciorti e DJ Sciocca e Mad Buddy abbiamo già iniziato questo festival con l'apertura che c'è stata all'Aurum qualche mese fa ma ci sarà il 30 e il 31 una fase importantissima perché al Colle del Telegrafo ci sarà proprio questa Kermess che metterà in evidenza uno dei posti più belli della nostra città appunto il Colle del Telegrafo unito a arte cultura e benessere ci saranno una serie di servizi correlati come il bus navetta proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile e tantissime altre sorprese che poi potremo trovare in loco accendere una luce sui luoghi più suggestivi della nostra regione attraverso gli interventi di arti visive di musica l'idea appunto è quella di valorizzare il nostro territorio farlo comunicando comunicando ad un pubblico 25-40 anni con una forte sensibilità alle arti visive contemporanee alla musica di ricerca è un target che rappresenta il presente ma anche il futuro del turismo locale e quindi questa è a parer mio insomma una manifestazione che meriterebbe il supporto della nostra regione è importante per valorizzare il territorio riuscire a comunicare a tutti per far questo è necessario che la fruizione dei luoghi che il festival tocca sia appunto di ingresso gratuito oltretutto insomma viviamo dei tempi in cui non è semplice economicamente poter affrontare l'intrattenimento la cultura e quindi il biglietto di ingresso è azzerato dal festival dopo due anni di stop per la pandemia è tornato il premio simpatia Abruzzo Montis Silvani organizzato dall'associazione culturale ItaliaE con l'alto patrocigno di regione Abruzzo provincia di Pescara comune di Pescara fondazione Pescara Abruzzo e associazioni Sandro Pertini Abruzzo ed editori abruzzesi come al solito l'hacker messi si è tenuta ieri sera al teatro del mare di via Aldomoro a Montesilvano con la conduzione di Elena Costa direttore responsabile della rivista Italia e Magazine il premio conferito per la professionalità e la dedizione al lavoro e anche in questa edizione la nostra emittente ha ottenuto riconoscimenti importanti per il nono anno consecutivo il premio come miglior telegiornale è andato al TG6 per noi c'erano i Selenia Secondi e Stefano Recanati sul palco e tra le trasmissioni televisive un premio è andato al nostro contenitore domenicale l'Abruzzo del pallone il premio è stato ritirato dal nostro Andrea Costantini e a proposito di sport apriamo la pagina sportiva andiamo in casa Pescara arrivato a titolo definitivo dal Monza nell'ambito dell'operazione Sorrentino il portiere Sommariva è uno dei tanti volti nuovi del Pescara l'ex Monza si presenta ai nostri microfoni ed è pronto ad entrare in competizione con Plizzari per una maglia da titolare tra i pali Sorrentino intanto le prime impressioni da neogiocatore del Pescara abbiamo fatto un buon ritiro ho visto una squadra ha seguito bene il mister abbiamo lavorato tanto e forte e questo anche il mister ci ha riconosciuto quindi credo che siamo partiti bene questi primi dieci giorni dodici giorni di ritiro un'estate intensa per te perché è la festa con il Monza ma ora questa nuova esperienza ed escrivici questi due momenti è stato sicuramente bellissimo chiudere a Monza con quella festa lì con la promozione però poi è arrivata questa opportunità per me che deve essere una grande opportunità per partire per la mia carriera e sicuramente pescare una piazza molto molto importante ecco appunto come si è sviluppata per ora la tua carriera facci un rapidissimo excursor ho fatto tutto il settore giovanile nel Genoa fino alla primavera e ho avuto la possibilità di allenarmi e stare con la prima squadra poi ho fatto due anni in serie D uno a Nocerina e uno a Bustese in provincia di Milano e poi sono stato quattro anni a Monza sono arrivato in serie C con la vecchia presidenza e ho avuto la fortuna poi nei quattro anni successivi con l'arrivo del presidente Berlusconi e dottor Gagliani di trovare una società molto importante con la doppia promozione quindi è stata una bella esperienza senti è arrivato a Plizzari non so se vi conoscete magari perché vi sarete affrontati in altri momenti sarà una bella competizione io lo conoscevo come portiere perché per il percorso che ha avuto lui il suo passato lo conoscevo e sicuramente avere un portiere così in allenamento durante la settimana insieme a Daniello e altri ragazzi aumenta la competizione sicuramente può solo che aiutare ad alzare il livello a tenere la concentrazione alta e a cercare di migliorare tutti i giorni per lottarsi per il posto per giocare per quello che verrà l'ultima non so se magari dei compagni di squadra del passato Mancuso Bettella ti hanno parlato di Pescara ti hanno dato qualche istruzione sì sì perché io ho iniziato la preparazione il primo di luglio lì a Monza quindi c'erano Bettella Macin ho parlato con Rigoni anche se è stato qua poco con Mancuso tutti mi hanno parlato molto bene della piazza della squadra della città mi hanno detto tutti che mi sarei trovato molto bene e quindi spero che sia così l'ultimo obiettivo di squadra Pescara è una squadra che deve ambire al massimo il miglior obiettivo possibile che è quello della promozione che può essere diretta o attraverso i playoff La discussione al Tarra di martedì prossimo e venerdì i calendari due appuntamenti che scanneranno una settimana la prossima decisiva per capire quale sarà il destino del Teramo La prossima settimana stavolta per davvero sarà quella decisiva per il futuro in un senso o nell'altro del Teramo da qui ormai non si torna più indietro martedì ci sarà la discussione al Tarra rispetto alle posizioni dei Biancorossi e del Campobasso che hanno inoltrato vedendole accolte entrambe istanza cautelare al Tribunale amministrativo per quanto meno provare a giocare le ultime residue speranze di salvare il professionismo innanzitutto partiamo con un assunto in caso di accoglimento della richiesta quindi con l'annullamento dei provvedimenti di Covizoc Collegio di Garanzia dello Sport e il reinserimento del Diavolo in Serie C tutto quanto mancava nella domanda originaria dello scorso 22 giugno andrebbe sanato questo per sgombrare il campo da un ritorno indolore nel professionismo a quel punto infatti ci sarà da mettere mano al portafoglio e ripianare quanto c'è da ripianare è chiaro che questa sarebbe comunque la soluzione migliore il parco giocatori quelli sotto contratto ovviamente sarebbe salvo e la categoria mantenuta con la Lega di Terza Serie che a quel punto si troverebbe venerdì 5 a svelare i calendari mettendo le due compagini Teramo e Campobasso nei gironi che saranno ufficializzati sempre nei prossimi giorni e comunque prima della stesura degli impegni domenicali poi si potrebbe partire con la scelta di allenatore e direttore sportivo Pokesci e Manfra sono da tempo impredicato di essere queste due figure mancanti e infine con la costruzione di una rosa che avrà l'unico compito di portare a casa una salvezza difficilissima visto il ritardo accumulato in queste settimane le altre compagini sono già in ritiro e stanno completando l'allestimento degli organici a cui manca davvero poco per essere messi a punto il Teramo qualora conservasse la Serie C dovrebbe farlo in pochi giorni così come la preparazione che allo stato attuale non potrebbe che essere in città per accelerare i tempi anche considerando che dalla discussione al TAR in poi mancherebbero 19 giorni al primo impegno ufficiale in Coppa Italia e 26 al primo impegno in campionato discorso diverso invece se il TAR dovesse rigettare le richieste delle due escluse dalla Lega Pro la terza serie a quel punto troverebbe Fermano e Torres a completare le 60 e per il Teramo si aprirebbero le porte del dilettantismo con lo svincolo d'ufficio dei calciatori attualmente tesserati e col primo cittadino che dovrà allestire in poco tempo il bando per le manifestazioni di interesse il contributo a fondo perduto sarebbe di 300 mila euro cosa simile in queste ore sta accadendo a Catania la Federcalcio ha concesso la possibilità di scrivere il Catania SSD recentemente costituito ed affiliato alla massima divisione del calcio dilettantistico soltanto una volta valutata positivamente la documentazione al completo la federazione procederà con l'iscrizione in sovrannumero della squadra rosso-azzurra in serie D la prodo del Catania in sovrannumero porterà il numero delle società a quota 169 numero già elevato e col Giorgione che punta al ripescaggio anch'esso la tempistica dunque stavolta farà tutta la differenza del mondo il diavolo ci prova se ci riuscirà potranno dirlo solo i giorni che verranno prima di chiudere una notizia che ci arriva proprio dalla ASL di Teramo che ha appena revocato il divieto di potabilità dell'acqua emesso precauzionalmente dai comuni di Isola del Gran Sasso Castelli Colledara Mosciano e Teramo per la zona della Gammarana dopo l'evento franoso che ne ha causato l'innalzamento del livello di torbidità le analisi effettuate dall'azienda sanitaria locale e dalla Ruzzo Reti hanno accertato la conformità dei parametri e quindi la salubrità dell'acqua che si può tornare a bere con la tranquillità di sempre e con questa notizia si chiude la prima edizione del nostro telegiornale vi ricordo che i nostri servizi i nostri contributi e tante altre notizie sul nostro sito web www.tv6.it o vi ringrazio per l'attenzione prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19 grazie e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.